Salve! Oggi vedremo delle vespe estremamente pericolose, delle vespe carnivoli. Ai margini di questo fiume ci sono degli esseri pericolosissimi. Le vespe sono attirate dall'odore della carne fresca e si precipitano sulla loro preda. Raschiano la carne fino all'osso creando dei bocconi pronti per essere portati via. Spero non siate allergici alle vespe. Come avete visto, queste vespe staccano a brandelli di carne e si riportano nel loro nero.